Allora, siamo alla mossa dell'artigianato, siamo nello stand della corniceria Aiosa. Siamo insieme a Riccardo Soldarelli, a Glauco Aiosa e Beatrice Corsetti, Angela Valentina. Allora, vuoi dire qualcosa? Certo. Voglio dire questo. Questa è la mia cadenza. Ormai che sono in pensione, non c'è più l'obbligo. Io incontro delle persone che fanno arte, parlo di arte, sanno cos'è l'arte e producono l'arte attraverso oggetti di arte libera. Questo è molto importante. Ho sempre detto che l'arte minore non è inferiore all'arte maggiore. Tutti i grandi maestri lascevano in bottega e avevano intorno famigliani, muratori, scalpellini. Era forse più importante il doratore nel Trecento che non il pittore. E Giotto era quello il quale affittava i telai a strozzo per mantenere la sua bottega, che aveva parecchie bocche da sfamare tutti in essa. Io ho avuto molto piacere di concludere questa mia visita alla mostra dell'artigianato con un incontro fortunato con questo giovane artigiano del terzo millennio che è forte dell'insegnamento degli antichi maestri, perché penso che sape cosa sia una duratura, cosa sia il gesso e colla, cosa sono tutte queste cose, è che oggi gli artigiani, soprattutto toscani, non faccio torta fiorentina, ma ora si parla di uno che vive in provincia di Lucca, in un posto magnifico, nella Garfagliana, e che produce e cornesce per tutti i gusti e per tutte le tasche. Io, questo vi ringrazio ragazzi, lavorate bene. Poi c'è una giovane artista che mi ha chiesto dei pareri sul disegno. Il disegno è la base di tutto. A Firenze c'è l'Accademia degli Arti e dei Disegni perché il rinascimento nasce su questo concetto. Avevano capito che tutto si disegna, l'architettura, la scultura, tutto si disegna. Poi si dipinge, si costruisce, ma lo scalpellino c'ha un progetto, l'intagliatore c'ha un progetto, tutti hanno un progetto. Il progetto è il disegno, le arti e i disegni, il disegno è la base di tutto. Buon lavoro e fortuna. Io voglio solo dire una cosa, che noi oggi abbiamo scoperto le ragioni per cui abbiamo fatto la stand della mostra di Germano, è una ragione molto semplice, andiamo davanti a noi. È nata una conoscenza. Grazie a tutti. Una ripresa generale. Ecco, scusate il brusio di fondo ma siamo nella mostra di Germano, sono dei giorni di conclusione. Allora, poi, questi sono venuti. Certo, questo è un artista, questo è un artista del desalutino. L'arte che si mangia, che si mangia. Voi state parlando con il presidente di Castiglione, che è un'ottima compagnia del Paiolo. Nasce tutto accanto. Da sempre. L'arte è da sempre. La politica, la politica, la colazione di lavoro.